Ora la palla a volo perché in Serie A2 recupero Vincente in trasferta per la Siego Impavida Ortona che si aggiudica 3-1, un match molto tirato sul campo del Castellana. I parziali 25-22 e poi 23-25, 23-25 e ancora 23-25. Grazie alla vittoria di ieri gli Impavidi potranno giocare il primo turno della Coppa Italia in casa contro Reggio Emilia. Una vittoria dunque che è arrivata in rimonta, state vedendo alcune immagini, contro un avversario ben costruito con atleti del calibro dell'ex Ottaviani, Cazzaniga e Patriarca, soltanto per citarne alcuni. Oltre al solito Cantagalli in casa Siego, 23 punti per lui, da sottolineare le prove di 7, incontenibile autore di 18 punti e di menicali con 12 centri. Si è rivisto in campo anche Sheravrak, utilizzato da coach Lanci con il contagocce per alzare il muro nei momenti più delicati del match. La prossima gara della Siego sarà ancora un recupero in trasferta contro Mondovì. La gara è in programma giovedì 4 febbraio con inizio alle 18. Il tour piemontese della Siego proseguirà poi sabato 6 a Cuneo, quando sempre alle 18 gli abruzzesi incontreranno l'acqua San Bernardo Cuneo.